Ciao Eugenio, direzione di Dara Gazzetta dello Sport, volevo partire da quest'ultima notizia che riguarda Luscioni, questa ricaduta che ha avuto al polpaccio. Innanzitutto volevo chiederti, visto che i tempi non penso siano brevissimi, se la società interverrà sul mercato per colmare questa assenza importante e poi volevo chiederti l'ultima volta ci hai detto che comunque il problema degli infortuni aveva in qualche modo inficiato il rendimento di questa squadra in quel periodo, ti chiedo, sta diventando un problema pesante questo oppure no? Intanto c'è dispiacere perché il ragazzo si è fermato mercoledì, gli esami, le indagini strumentali sono state fatte queste mattine che purtroppo hanno certificato questa lesione e dunque essendo lo stesso muscolo ci andremo con un pizzico di cautela visto che si è rifatto male dopo essere rientrato con un percorso che era logico rispetto alla lesione che il ragazzo aveva subito, non abbiamo accelerato niente, abbiamo gestito le prime tre sedute all'allenamento come facciamo di solito con i giocatori che rientrano dai infortuni e il ragazzo sembrava stesse bene, purtroppo ha avuto questo problema, è una perdita sicuramente importante a livello di leadership e di valore del giocatore, su questo sapete che a prescindere la società stava lavorando e sta lavorando su un difensore e dunque vedremo se questo difensore arriverà e faremo ulteriori valutazioni poi sulla rosa, sui giocatori che abbiamo a disposizione valutando appunto i tempi di rientro di Fabio, di conseguenza sicuramente una perdita importante, oggi tocco ferro, eravamo tutti al completo e purtroppo si è rifatto male lui, speriamo che siano quegli infortuni fisiologici che non si torni a quello che è successo nella parte centrale tra ottobre, noi venivamo fuori 5-6 giocatori, tendenzialmente oggi tutti i giocatori sono convocabili a parte gli squalificati, purtroppo si è rifatto male Fabio ed è per noi una grave perdita nella maniera più assoluta. Senti, è arrivato Ranocchia, volevo chiederti innanzitutto tu che tipo di collocazione gli dai a questo giocatore, perché lui stesso ha detto che sono una mezzala, posso giocare da play, volevo capire tu come lo vedi e se già domani potrebbe anche partire dall'inizio? Ma un giocatore completo, secondo me è giovane, una giovane promessa dalla primavera del Perugia, acquistato dalla Juventus, ha fatto le sue esperienze, ha fatto un po' di Serie A, arriva in una società giusta dove lui si può definire come calciatore, ha fisicità, calcia bene con entrambi i piedi, è un centrocampista duttile, moderno, che sa fare la fase di costruzione, si sa anche inserire, calcia molto bene dal limite, deve completarsi, ma anche per il valore che ci dà oggi, anche in una prospettiva futura, mi sembra un acquisto molto ben fatto e rispetto a domani oggettivamente ha fatto solo due allenamenti con noi a disposizione, ma difficilmente lo vedrete dall'inizio. Buon poveriggio Eugenio, Paolo Vennini del Corriere lo Sport, senti non ti dico nulla di nuovo, è ovviamente una cosa sulla quale avrete studiato e lavorato, è evidente che non si può ambire a fare un salto di qualità finché prendiamo due gol a partita, tu hai detto, e la cosa accade ormai da più di sei partite consecutive e cominciano ad essere veramente tante. Tu hai detto più volte che dobbiamo accettare un margine di rischio per il tipo di gioco che vogliamo fare e in certe partite è andata anche bene perché ne hai fatto i tre e quindi sei riuscito a vincere, ma fondamentalmente adesso ti senti in dovere di dover fare qualche cosa, di dover tentare un accorgimento, di dover chiedere alla squadra forse un atteggiamento diverso, un po' più chiuso, oppure sono errori individuali quello che hanno portato tutti questi gol per cui è difficile rimediare. Non mi sentirete mai parlare di errori individuali, è sicuramente un problema perché avevamo dei dati fino a un certo punto del campionato molto importanti difensivamente e purtroppo nell'ultimo periodo non lo sono più, è sicuramente migliorato l'efficacia in zona offensiva, abbiamo migliorato tanto da questo punto di vista, ma dentro la partita di Cittadella c'è quel pezzo che manca e che non riusciamo a colmare, perché oggettivamente anche rivedendo la partita e parlo di una prestazione secondo me che è stata fatta anche discretamente bene, se vogliamo diventare una squadra che ambisce, che lotta per fare qualcosa di più, dobbiamo definirci meglio, spingere di più, è stata una settimana da questo punto di vista dove veramente ero molto arrabbiato, perché abbiamo ricreato un entusiasmo, un clima e dovevamo fare che questa prestazione, che poi la ritengo sufficiente perché non porta risultato, non possiamo essere una squadra che sia contenta di fare una buona prestazione, possiamo essere una squadra che fa delle buone prestazioni e fa dei risultati e su questo sicuramente dobbiamo migliorare nella fase difensiva complessiva, nella partecipazione collettiva a quello che è la fase di non possesso, perché sicuramente siamo una squadra a cui piace attaccare, a cui è molto pericolosa quando contraattacca, sicuramente un margine di rischio se vuoi vincere e vuoi fare dei gol lo devi assumere, ma quel margine di rischio non deve essere così elevato purtroppo da far sì che le squadre avversarie possano segnare due o tre gol a partita. Faccio l'ultima, è sempre brutto parlare di individualità, ma ci sono dei giocatori che obiettivamente nell'ultimo periodo hanno leggermente peggiorato il loro rendimento, uno di questi secondo me è Lund, che era invece partito molto bene, era piaciuto anche perché era abbastanza una sorpresa, ha avuto obiettivamente mi pare una flessione anche proprio nella capacità di difendere, che è uno degli argomenti di cui stavamo parlando. L'hai notato anche tu, è dovuto al fatto che lui ha giocato tantissime partite da quest'estate e stai pensando di poter intervenire oppure gli dai fiducia? Sono tante le valutazioni su Chris, è un giocatore che è arrivato e giocava praticamente da marzo in maniera interrotta e tornare di conseguenza a qualcosa da quel punto di vista, parlo anche se è un ragazzo giovane, nel massimo dell'espressione e dell'energia, potevamo pagare in termini di lucidità, secondo me è un giocatore che ci dà tanto, sicuramente ha avuto una partita non positivissima col Cittadella, anche Giuseppe Aurelio è un giocatore che comunque sulla proposta offensiva dà il meglio di sé, stiamo lavorando tanto anche da un punto di vista prettamente difensivo, anche Aurelio ha avuto un percorso di una pubalgia che l'ha limitato, fortunatamente l'ultimo mese e mezzo il ragazzo sta molto meglio, sono in competizione, cerco sempre di fare la scelta che ritengo più opportuna, è un ruolo a cui chiedo tanto anche dal punto di vista fisico e l'avete visto che spesso è un cambio che faccio a partita in corso, però penso che Chris è un giocatore che per felicità, per come riempie il campo è un giocatore che ci dà tanto, so che Giuseppe quando ho bisogno di lui c'è, dobbiamo anche dentro la settimana come ne parlavo poi con i preparatori, gestire anche i carichi di lavori su Lund perché oggettamente è un giocatore che praticamente non si è mai fermato se non in quei sei giorni che la squadra è rimasta a riposo dopo la partita con la Cremonese. Ciao Eugenio, Tullio Filippo in Repubblica, riguardo al centrocampo volevo chiederti, la scorsa partita c'erano delle defezioni, Coulibaly, lo stesso Gomez non stava bene e la sensazione è stata che proprio al centrocampo ci sia stato un problema di equilibrio che poi tu avevi anche chiesto prima della partita, adesso alla luce del fatto che il centrocampo spesso quest'anno ha cambiato gli interpreti, tu quell'equilibrio pensi di averlo trovato in questo momento proprio con Gomez e Coulibaly e magari con l'inserimento oltre che Segre anche la qualità di Ranocchia in cabina di regia. Coulibaly sta rientrando dall'infortunio dunque per me deve completare il suo percorso e fortunatamente oggi a livello di centrocampo, a livello numerico non sono nelle condizioni in cui l'avevo spinto nella partita in cui giocò titolare col Brescia, di conseguenza è un ragazzo cui voglio dargli un percorso e che devo cercare di ottimizzare la sua risorsa per capire di cosa ho bisogno oggi e soprattutto nel percorso che andremo ad affrontare successivamente. Il centrocampo per me era molto tecnico a Cittadella ma era dovuto a una settimana particolare dove l'influenza purtroppo ci ha creato tante difficoltà e per me Claudio avevo in mente 30 minuti e ho dovuto poi fare quello che ho dovuto fare accelerando di qualche minuto vista purtroppo l'espulsione di Leo, sapevo che potevamo pagare qualcosa su un campo lungo ma dal punto di vista qualitativo oggettivamente la squadra se vado a vedere i primi 25 minuti ha creato 4-5 volte le premesse per fare gol, è stata molto pericolosa, abbiamo preso un gol purtroppo su un fallo laterale che stavamo gestendo noi dove non siamo stati attenti alla maniera giusta, è lì che dobbiamo definire, è lì che sto continuando a spingere, nei particolari questa squadra deve crescere deve sentirsi una responsabilità diversa, dobbiamo migliorare, non possiamo accontentarci, abbiamo 18 partite, il tempo passa, la classifica fortunatamente è corta ma chi ha tempo non aspetta tempo e non possiamo permetterci di perderne ancora e di conseguenza ho bisogno di giocatori che siano convinti, coesi e che spingono con una mentalità forte perché penso che questa squadra abbia dei margini importanti di crescita e ho bisogno di giocatori che spingono in una direzione importante, non posso più uscire come da Cittadella con una percezione di qualcosa che dici sai che è qualcosa ma non posso accontentarmi di qualcosa, ma dobbiamo portare a casa il risultato e il risultato è attraverso delle prestazioni ma nelle prestazioni c'è un'attenzione che ti porta poi a definire il risultato e su questo noi dobbiamo per forza migliorare. E poi volevo chiederti a proposito che tipo di partita ti aspetti col Modena, l'anno scorso qui è stata una partita, una goleada però è stata una partita molto complicata e poi il Palermo l'ha sempre spuntata fino ad ora col Modena però ecco sempre partita difficile. Sì, il Modena è una squadra qualitativa, gioca con due punte, un trequartista come Tremolada, ha dei centrocampisti comunque di qualità, di palleggio come Gerli, come Palumbo, dunque è una squadra che sa giocare, che sa costruire e di conseguenza sappiamo che ti può mettere in difficoltà sotto tanti punti di vista ma pensiamo di avere le risorse per andare a fare una grande partita. Voglio vedere negli occhi dei miei giocatori questa incazzatura che avevamo nello spogliatoio post-Cittadella che abbiamo portato dentro tutta la settimana, quell'incazzatura che ti fa tenere il livello di attenzione alto, che non ti fa appoggiare a niente, dobbiamo metterla in campo domani e se avremo questo atteggiamento abbiamo grandi possibilità di vincere la partita. Salve mister Alessandro Rena, giornale di Sicilia, sempre a proposito del Modena, lei si aspetta di trovare la stessa squadra vista all'andata o comunque la considera ancora al netto del percorso negativo che hanno avuto nelle ultime settimane una diretta concorrente per i playoff? Oggi Bianco ha detto una cosa molto significativa, in questo momento il Palermo è molto più avanti rispetto a noi, la condivide? Il Modena è partito giocando 4-3-1-2 che spesso diventava 4-3-2-1, hanno avuto un periodo dove hanno giocato con una difesa 3-2 ster, dunque è diventato un 3-4-1-2, 3-4-2-1, nell'ultimo periodo sono tornati a giocare a 4, Leggo che potrebbe ritornare a giocare a 3, siamo pronti a affrontare quello che sarà la scelta di mister Bianco, è una squadra che ha qualità, attitudine, io penso sempre che penso la mia squadra e gli alternatori devono pensare alla propria squadra, io penso che la nostra squadra abbia caratteristiche e risorse e se prendo singolarmente ogni squadra di questa categoria il Palermo le può battere chiunque, nel periodo lungo, nel medio periodo può succedere di tutto e dunque quello che voglio è la concentrazione sull'avversario di turno e lì dentro per me abbiamo risorse importanti per vincere le partite e ci vuole l'attenzione giusta per poterle vincere e quella voglia di spostare, di fare qualcosa in più, non possiamo accontentarci, non possiamo far sì che questo diventi qualcosa che non è quello che vogliamo, ma per non volerlo devi metterci qualcosa in più, questa squadra nel momento di difficoltà ha tirato fuori quel qualcosa in più e di conseguenza per definire una mentalità, per definire chi vogliamo essere dobbiamo dar continuità a questo, non possiamo accontentarci fra virgolette di una buona prestazione, deve essere una grande prestazione perché dentro la grande prestazione c'è l'attenzione, c'è la voglia di sporcare la partita quando la devi sporcare e di portarla dove vuoi tu e su questo dobbiamo fare molto di più. Buonasera Eugenio, Marco Capone, Palermo Today, domani prima partita del 2024 in casa, tu hai vissuto qui da capitano grandi annate dove il Barbero era quasi inespugnabile, ti chiedo tra gli obiettivi di quest'anno c'è la voglia di tornare ad avere uno stadio molto forte dal punto di vista dei risultati e poi a livello di previsione generale tu anche l'anno scorso ci parlavi di quel famoso solco che tende a crearsi in classifica dopo il mercato di gennaio, insomma da febbraio a marzo, anche quest'anno credi sia possibile quindi il mercato può spostare determinati equilibri, grazie. È imprescindibile non pensare che il Barbera deve diventare il nostro fortino, dobbiamo passare da lì, dobbiamo passare dal nostro stadio, dobbiamo vincere delle partite e fortunatamente il trend nelle ultime partite l'abbiamo cambiato perché era totalmente negativo e dobbiamo far sì che questo trend continui in maniera molto positiva e dobbiamo, se vogliamo fare un campionato di un certo tipo, passare che da casa nostra sarà difficile per tutti in maniera più assoluta. È vero che per me gennaio è il mercato in bis posta degli equilibri ma proprio gennaio diventa un mese fondamentale, noi l'anno scorso con il pareggio di Perugia, le tre vittorie che riuscimmo a fare, addirittura spostammo l'inerzia dalla classifica e abbiamo cominciato a sognare di fare qualcosa di diverso e dunque è dentro proprio il mercato che sì devi lavorare con una prospettiva futura ma devi fare risultato e noi a Cittadina abbiamo perso una grande occasione, di conseguenza dobbiamo mettere in campo questo perché gennaio è importante, è vero che ci sono quelli che entrano, quelli che escono, è vero che per me generalmente certi giocatori possono spostare qualche equilibrio in Serie B ma è anche vero che ci sono delle partite da fare, che i punti sono sempre importanti e dobbiamo pensare a questo già da domani. Buon pomeriggio mister Cettina Pellittere, Azzurri Anusse. La partita dell'andata col Modena, quella bella vittoria, il Palermo salì al secondo posto e doveva recuperare anche una partita, poi improvvisamente ci sono stati quei risultati con lo Spezzi e lecco una serie di risultati negativi che hanno fatto precipitare il Palermo all'ottavo posto. Dopo il pareggio col Parma il Palermo cominciò a risalire, siamo arrivati al quinto posto prima di Cittadella, tre punti dal secondo posto e che cosa succede? Un'involuzione mentale inspiegabile, sembra un po' la marcia del gambero, un passo avanti e tre indietro, ma perché accade questo? Forse i giocatori hanno paura di volare, perché questo timore e quando deve fare il salto di qualità puntualmente non avviene e tra l'altro la delusione dei 1.500 tifosi ha tombolato, grazie. L'ho vissuta anch'io e l'hanno vissuta anche i giocatori, c'era una grande aspettativa su questo, ma purtroppo poi bisogna reagire alle cose che succedono e come vi dico spesso la B è talmente strana e talmente particolare che bisogna saperci stare dentro, a volte ricevere le critiche perché non fai una buona partita, non fai risultato che tutti si aspettano, saperci stare dentro perché se ci credi la sposti, faccio l'esempio, l'anno scorso il Genova aveva una super squadra, è arrivato a seconda, ha avuto delle difficoltà, il Monza forse l'anno prima aveva una grande squadra, ha dovuto andare a vincere nella partita di ritorno dei play-off, una partita incredibile colpisa e dunque bisogna sapere stare dentro con queste categorie. La nostra capacità è quella di andare avanti nel momento positivo, nel momento negativo, avere una linea equilibrata ma anche molto attenta a quello che abbiamo bisogno per spostare questo tipo di inerzia e secondo me lì abbiamo dei difetti che dobbiamo colmare e su questi sto continuando a lavorare per far sì che diventino sempre meno e che diventino sempre più qualità che dobbiamo mettere dentro le partite per far sì che ne vinciamo molte di più. Buonasera mister Fabiano Mascolino del Sicilia.it, ieri è stato presentato Ranocchia, altre voci di mercato danno o comunque si votizza il possibile arrivo di altri giocatori dalla Serie A, che tipo di importo possono dare giocatori che provengono da una categoria superiore soprattutto in un momento anche delicato come questo per una squadra che ha delle certe ambizioni? Come ti avevo detto parlo di chi è arrivato, ho parlato di Ranocchia, vi ho detto che per la società sta lavorando per un difensore, quando arriveranno vi dirò, io penso che chi arriverà sarà sicuramente stato scelto, valutato per caratteristiche tecnico, tattiche, caratteriali e che pensiamo che possa alzare il livello di questa squadra, di conseguenza l'arrivo di Filippo Ranocchia in questa ottica, vediamo la società cosa riuscirà a fare da qua alla fine del mercato e poi lo valuteremo quando sarà finito. Eugenio, ti sto sentendo molto più arrabbiato oggi, la vigilia della partita del Modena, che dopo, questa è la mia impressione, dopo la sconfitta di Cittadella, questo chiaramente non può che essere un buon segnale, ma giustamente tu hai detto io non mi posso accontentare di un qualcosa, poco fa hai detto questo, ma come fa una squadra a fornire un qualcosa dopo, una vittoria importante sulla Cremonese, un percorso in crescendo, una pausa, quindi stresse diciamo livellati verso lo zero, andare a Cittadella ed esprimersi solo per 20 minuti, puoi sparire quasi. Guarda, su questo io l'ho rivista e non sono d'accordo come poi giustamente sul fatto dei 20 minuti, i 20 minuti sono stati fatti molto bene, poi per me la prestazione è stata combattiva e dentro abbiamo lasciato delle cose che cambiano l'inerzia e che fanno, io lo capisco da chi vede da fuori, vedere delle cose più in maniera negativa che in maniera equilibrata e questo fa parte di un mestiere che magari è diverso e di un allenatore che deve vedere cose, dunque io la percezione del campo è quella che ho detto dopo la partita, cerco sempre di essere e di prendermi un tempo prima di esprimermi perché ho una percezione del campo, ho una percezione di quello che succede, di quello che ha spostato l'inerzia dalla loro parte e l'ho fatto vedere ai giocatori e noi sappiamo che lì dobbiamo far di più. Se vogliamo fare un campionato a lottare, come ci siamo detti, per provare a fare qualcosa di importante o subito o attraverso quello che succederà a fine campionato, dobbiamo crescere a questo punto di vista, dunque le settimane di lavoro, l'attenzione che abbiamo messo dentro, si vede che deve ancora di più alzarsi perché se poi dentro nel momento delicato, se devi fare gol non lo fai, hai una palla tua su un fallo laterale e regali il gol dell'1-0, crei le premesse per pareggiare inizio secondo tempo con un'occasione importante, non lo fai su un fallo laterale loro, una palla che è mezza-mezza, rimani in inferiorità numerica, è normale che le difficoltà poi crescano e tu devi essere così forte ad andare sopra, oggi questa squadra non è stata capace di andare oltre le difficoltà che la partita ti presenta perché abbiamo affrontato una squadra che come vi avevo detto è da dieci anni, dove sette, otto anni ambisce andare in Serie A, ha fatto due finali play-off e quest'anno sta facendo questo tipo di campionato, dunque è una valutazione sulla prestazione ma qui io devo andare oltre perché dentro la prestazione ci sono delle cose che sono oggettive che spostano e cambiano le partite e noi su quelle dobbiamo lavorare, dunque l'ottica del miglioramento attraverso il mercato sarà sui giocatori che possono aiutarci a alzare questo tipo di livello e l'ottica dell'attenzione, dell'allenamento, dei video che faccio vedere la squadra sarà focalizzata lì, lo devono fare, lo devono fare se vogliamo ambire a fare qualcosa di più Ultimissima, l'ultima cosa, volevo soltanto dedurre un ulteriore elemento da quello che hai detto quindi nonostante l'iniezione di esperienza che avete messo quest'estate in questa squadra questo è un gruppo che ha bisogno di stare sulla corda sempre? Ma i campionati, guarda, abbiamo cambiato tanto anche quest'anno, abbiamo vissuto momenti particolari questa squadra ha una dedizione al lavoro pazzesca, ma non basta, non basta, dobbiamo spesso e oggi nelle chiacchierate che facciamo è venuto fuori, andiamo forte, dobbiamo andare fortissimo, è questo, non basta andare forte, dobbiamo andare fortissimo e questo vuol dire avere un'attenzione veramente maniacale, deve diventare quasi un'ossessione, qualcosa in cui tu sai che sei focalizzato lì, che hai quell'input lì, perché io so cosa vuol dire vincere qua e so anche cosa devi passare per poter vincere e noi dobbiamo crescere lì e io impazzisco per far riconoscere certi dettagli, certe situazioni e non molerò un centimetro per far sì che riusciamo a mettere dentro questo pezzo che oggi manca, perché sennò tua cittadella non perdi, porca miseria, manca e io impazzisco ma sto cercando in tutti i modi di capire e di far capire e di far leggere cosa manca e io domani questa roba qua la voglio vedere, la voglio vedere, dobbiamo metterla in campo e vuol dire vincere sporco, pulito, non me ne frega niente, ma dobbiamo vincere, dobbiamo creare questa mentalità di cosa vuol dire giocare qua, vuol dire che devi assumere certe responsabilità, sempre e comunque vogliamo e abbiamo l'attitudine per provare a fare un campionato che dobbiamo lottare, sì, possiamo accontentare di essere settimi, no, la classifica è corta a tre punti, abbiamo il quarto posto, a sei abbiamo il primo posto, dobbiamo essere ambiziosi, essere ambiziosi vuol dire alzare il livello e spingere ogni volta di più e non possiamo avere una percezione io per primo di dire cazzo la squadra ha fatto delle cose su cui abbiamo lavorato ma abbiamo perso due a zero, potevamo fare gol, non lo facciamo, lo prendiamo, stiamo facendo il gol dell'uno pari, rimaniamo in dieci, non possiamo, se vogliamo vincere partite e ambire a qualcosa di importante questa cosa va migliorata ed è sicuramente una cosa su cui sto lavorando tanto e che mi aspetto dei miglioramenti significativi già da domani.